Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, prima che magari inizi con il thruster, sono prima carro, eh. Vado? 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 otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quassordici, quindici, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, stordici, quindici. No, hier, hier. Allora. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, vai, Simo, dai, tre, tre, dieci, undici, dodici. Dai, Simo. Dai, vuoi stare con te? Dai, Simo. Contarli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dai, Simo. Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. La zero le calze. Vai. Adesso fa 12 cal, poi vedi il mio 12 cal e poi sono nove. Poi è nove senza, è la regale. è il giro dei dodici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 6 1 5 5 5 1 5 5 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 5 6 1 5 6 1 5 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 6 1 5 6 6